Ora rimaniamo in tema di scuola, di banchi di scuola e in questo sketch vedremo quello che succede più o meno tutti i giorni quando i ragazzi vanno a scuola durante l'ora di ricreazione, tra varie confessioni e varie battute. A voi le studentesse! Allora, senti, per seguire te, io sono stata rimandata in matematica, aritmetica, fisarmonica e ammoniaca, capito? Tutte queste. Adesso fai come te dico io, va bene? Va bene, va bene. Allora, intanto però, aspetta, è una cosa perché non ho capito. Spiegami le differenze tra aritmetica e che era quell'altra ammoniaca. Ma è semplice, ma dovresti manco chiedere, è che l'ammoniaca sta qua, l'aritmetica sta qua, te fai così e se sono stata rimandata a qualche motivo ci sarà, no? Giusto. Senti, giochiamo a nomi, cosa, animali, città, cantanti, calciatori, elettrodomestici? Un altro? No, sono finita, non me lo male, pensavo. Dai, giochiamo. Non me lo, basta che metta qua la faccia però, madonna mia, santa. Vai, pie le penne. Eh, un attimo. Vai, pie tutta, va. Eccole. Vai. Dai, su, su, vai. Dai, scegli questa lettera però, movite. Oh, dimmi stop. Stop. Boom. Ahia, madonna mia. Te l'hai fatto la mano? Non lo so. Eh, certo, ma è colpa mia, vè? Certo, sempre colpa tua. Eh, certo, ovvio. Comunque M di motte meno. M di mohamed, mohamed. Che te sei maniata il panino con la cipolla un'altra volta? Eh, mica è colpa mia. È colpa d'amico mio, il kebabaro, insomma, che abita dentro al kebab che è arabo, no? Certo. Eh. Dentro al kebab abita. Certo. Io invece, come non mi penso, ho messo Mentecatto. Mentecatto? Ma che è? Come che è? È il vicino mio di casa, deficiente, apposta che si chiama Mentecatto. Sì, sì. Comunque. Comunque. Poi animali ho messo Mannaro. Mannaro. Sì. Mannaro. Ma non esiste? Ma che sa Dio? Ma sa quanto sei ignorante, chi è mia. Certo. Mannaro, il lupo, no? Il lupo Mannaro, quello che abita nella vastissima zona della Martesana. Vastissima. Vastissima. E poi comunque, se le cose non le sai, sale. Certo. Te, cantanti, che hai messo? Io cantanti ho messo Mary per caso. Aspetta, ridimmi un altro con il nome. Mary per caso. Certo, come no. Mary per caso. Beh, a casa mia erano i neri per caso. A casa tua? Sì. A mia era numerico la M. Vabbè, se passiamo sta cosa. Io metto 500 miliardi dei punti, perché te ne la sapevi. Ah, certo. Sì, sì. Cambiamo lettera che mi sono stufata, dai, su. Vabbè, aspetta, eh. Allora, dai. Oh, dimmi stop. Stop. P. Porcaccia miseria. Ah, uè, parolacce in vargo, no, in questo gioco, eh. Certo, mi ha bucato una mano due volte, la seconda, combo. E te, levela. Eh, certo, certo, sempre colpa mia. Animali, vabbè, dai, sti animali che hai messo. Animali ho messo pronto sauro. Ma ogni volta ti inventi sempre tutti te, dai, spiega a me che è sto pronto sauro. Poi, cioè, dici a me che io so ignorante, a te l'ignoranzità te si mangia, guarda questa. A me, eh. Allora, pronto sauro era un animale preistorico che, appunto, te lo chiami e te fa pronto so sauro. Ah, 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 no. Comunque, cacciatori ho messo pirla. Pirla. Ma non era pirla, aspetta un attimo. Eh, no, aspetta un attimo, te, cioè, prima che giocava una Juve, mo che gioca nel, sì, prima, perché adesso che gioca nel Mila si chiama pirla. Ah, invece. Cioè, cose ne sai, vedi? Salle. Certo. Poi, te l'entrodomestici aspetta, che hai messo? L'entrodomestici ho messo passeggino, chicco, turbo, ruote motrice, servo sterzo. Sì, come no. Io metto 500 miliardi di punti in una volta, perché te ne la sapevi e poi allunga. Sì, si fa come te pare, come al solito. Sì. Poi? Poi, i cantanti te che hai messo? Purtroppo non lo so. No, peggio per te in altro, 500 miliardi di punti solo per me. Vedi che non hai capito niente? Purtroppo non lo so, sono un gruppo, pensa, della Martesana. Ah, quello di Lupide prima. Sì, vuoi sentire un pezzo inedito? Beh, veramente? Beh, niente, te lo faccio lo stesso. Vabbè, e lo no, va. E lo no, va. Scusa. Ecco. Io ho messo Ponte Ponente e Ponte P. Eh, no, aspetta, chi è questo? Ma non lo so chi è Ponte Ponente e Ponte P? No, non lo so. Non lo so chi è Ponte Ponente e Ponte P? Cioè, io non lo so, è il cantante? Dei purtroppo non lo so. Ah, è barato. Oh, ma te è barato? Oh, ma è bojo. Ma non lo so io. Ma non lo so io. Allora. solo le seggio le prendiamo sì ma il banco è in questo modo